Autorevolezza, come essere più credibili grazie al ballo. Allora, uno dei principali benefici, anzi uno dei primi benefici che ottieni grazie al ballo, è proprio quello di migliorare la tua postura. Allora, che cos'è la postura? Non è altro che la verticalità della schiena in rapporto al pavimento. Ora, perché è importante migliorare questa parte della nostra vita? C'è proprio la postura. Perché? Perché questa condiziona il modo in cui ci sentiamo, condiziona il modo in cui ci presentiamo e quindi di conseguenza anche il modo in cui siamo percepiti dagli altri. Quindi la postura è una parte fondamentale della tua presenza fisica e della tua credibilità. Cioè quando ti trovi subito di fronte a qualcuno che vedi in video, in televisione, di persona e lo vedi che ha un atteggiamento un po' così non ti dà la stessa credibilità di una persona che si presenta ferma, solida, che ti parla in un certo modo e che la cui fisicità e il cui linguaggio del corpo trasmette sicurezza. Giusto? Ok. Allora, capiamo un attimino come funziona la postura. Così ti posso dare qualche indicazione che magari potrai utilizzare anche sin da subito. Allora, la nostra schiena non è un palo, non è un palo, non è perfettamente dritta. C'è delle curvature naturali. Però succede che a volte ci sono delle curvature in eccesso oppure che non dovrebbero proprio esserci. Ad esempio, la scoliosi è un difetto della schiena nella quale si presenta una curvatura laterale. E questa curvatura laterale non dovrebbe proprio esserci. Non fa bene, è pericolosa. Quindi bisogna curarla. Poi esiste la lordosi. La lordosi che cos'è? È una curvatura nella parte bassa della schiena, nella parte più bassa. Un po' come... avete presente queste donne con il sederino a paperella? Ok. Spesso, anziché essere un vantaggio, è proprio un difetto. Ed è pericoloso per la salute quando è così in eccesso questa curvatura. Poi esiste la cifosi. La cifosi è invece una curvatura eccessiva nella parte alta della schiena. Cioè una curvatura a cucchiaio. Cioè un po' è una postura, è una posizione sbagliata che si prende o col lavoro, in cui magari si è sempre in scrivania o al computer. Oppure la tipica posizione da poltrona a guardare la televisione, no? Magari la domenica, che siamo lì a fare zapping. Ecco, come si risolvono queste? Allora, a parte che quando è già una situazione eccessiva, bisogna andare da uno specialista. Ora, come possiamo comunque migliorare e potenziare la nostra posizione quotidiana? Allineandola. Facile a dirsi, vero? Allora, sarebbe nelle curvature che noi abbiamo della nostra schiena, che cosa facciamo? Come dire, sarebbe da premere in modo che ci si allinea. Ora, avrei modo di illustrartelo meglio in video, eppure quello che serve in realtà solo sono delle buone abitudini. E queste buone abitudini come le possiamo prendere? Beh, ti dico una molto semplice, molto facile, che conosco molto bene. Ed è quella di imparare a ballare. Sì, anche perché vuoi scommettere la postura che ti offre un walser lento, un tango, un foxtrot, un walser viennese, ma anche una rumba, anche un bolero. Cioè, è una presenza strepitosa, quella che ottieri, migliorandola, ballando. Infatti, quando ti impari a ballare, almeno all'Arthur Murray, non è che c'è scritto, migliora la tua postura. Cioè, questo fa parte del percorso. Lo fai, lo fai divertendoti, lo fai gradualmente, creandoti delle abitudini, mentre ti diverti. E poi puoi trovarti con una presenza incredibile. Incredibile, ti trovi col fatto che le persone ti fermano e ti dicono, ma che cosa hai fatto? Cioè, ti vedo che sei più sicuro, ti vedo che sei cambiato in qualche modo. Che cosa hai fatto? Ecco, le persone noteranno la tua trasformazione. Non potranno identificarla, perché non è che hai cambiato un vestito, cambiato il cappello o qualcosa, ma se hai cambiato dentro, è fuori. Quindi, questo è uno dei principali vantaggi che ti offre il ballo. Quindi, se anche tu vuoi essere più credibile, vuoi essere più autorevole, vuoi comunicare in modo molto più efficace, Beh, perché no? Ci vorrebbe imparare a ballare, provare delle cose che ti piacciono, potresti divertirti e, in compenso, scoprire questa postura straordinaria che potresti avere, essendo molto più credibile. L'unica cosa che devi fare è fare il primo passo. Ci conosci, siamo l'Arturmare, vieni a conoscerci, potresti fare delle scoperte straordinarie nella tua vita. Ci vediamo presto, ciao!